Cristina Buccini in lingerie Cristina Buccini in lingerie, le foto sexy su Instagram per una campagna 2 ottobre 2017, di redazione . Cristina Buccino ha posato, tanto per cambiare, un intimo. La subretta ha sponsorizzato su Instagram una linea underwear con foto sexy. Cristina Buccino non smette di incantare i propri follower su Instagram con scatti super sexy. Questa volta la subretta ha posato per uno shooting prontamente condiviso su Instagram in biancheria intima. . Il brand pubblicizzato è Loveligiri, che consiste in bralette, reggiseni a balconicini e culotte di pizzo sfoggiati dalla Buccino in conturbanti pose e in scatti in bianco e nero. . Le generose forme della star si prestano molto bene alla sponsorizzazione, la Buccino ha scelto un completo nero, di pizzo, per una foto in bianco e nero e uno bianco per un altro scatto, sempre prorompente, a colori. . La lunga cascata di capelli castani, lo smalto rosso scuro e i gioielli sparsi tra polsi e lobi. . . . . . . . . Cristina Buccino, nota per una serie di comparsate televisive prima della partecipazione all'Isola dei famosi nel 2015, è tuttora single. . Come aveva dichiarato a Velvet, sono single, anche perché mi sto dedicando al 100% al mio lavoro, quindi sono distratta in questo senso. . . Non ho un prototipo specifico di uomo ideale, quello che è certo è che preferisco i mori, con un bel fisico ma non troppo curati. Che ne dite? Con queste foto la Buccino riuscita a trovare l'amore? Noi glielo auguriamo!. .